Per gestire le categorie del negozio clicca sull'icona categorie. Le categorie verranno presentate qui di seguito. Sulla destra troviamo inserisci che permette di inserire una nuova categoria. È possibile inserire il nome, la descrizione, l'immagine cliccando su sfoglia e il tipo di ordine. Andiamo ad inserire il titolo di una nuova categoria. E la descrizione. Con il tasto traduce è possibile tradurre tutte le definizioni automaticamente. Il tipo di ordine va a sovrascrivere l'ordinamento lessicografico delle categorie. Ora clicca su salva. Per accedere alle sottocategorie basta cliccare sopra la macro. Sulla destra di ogni riga sono indicate le operazioni che si possono compiere. Cliccando su modifica è possibile rettificare le informazioni inserite precedentemente. Il bottone elimina invece permette di cancellare la categoria e tutte le relative sottocategorie. Inoltre, se si vuole, è possibile cancellare un blocco di categorie selezionando i checkbox sulla destra. La ricerca rapida sulla sinistra serve per trovare tutte le macro e le sottocategorie. Oppure selezioniamo una categoria per visualizzarne il contenuto. Quisto! Buon appetito!